Tutto pronto ad Atena Lucana per l'appuntamento con i campi estivi dedicati ai bambini e ai ragazzi del territorio. Sono previste tante attività per dare ai piccoli partecipanti l'occasione di trascorrere qualche giornata di divertimento in questa estate 2023, ma anche l'opportunità di socializzare, imparare e scoprire la natura. Sono dunque aperte le iscrizioni al campo estivo Summer Camp 2023, organizzato dalla cooperativa Il Sentiero e dal comune di Atena Lucana, guidato dal sindaco Luigi Vertucci. L'iniziativa è rivolta alle bambine e ai bambini dai 3 ai 13 anni e si svolgerà nella scuola dell'infanzia per la fascia dai 3 ai 6 anni e nell'auditorium comunale di Atena Lucana Scalo per la fascia dai 7 ai 13 anni. Il periodo in cui si terranno le giornate del campo estivo Summer Camp 2023 con l'invito Vieni a giocare con me è dal prossimo lunedì 10 luglio e fino al 4 agosto 2023. La partecipazione è gratuita, le attività si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 13. Per l'iscrizione in forma all'amministrazione comunale è necessario compilare i moduli che si possono trovare sul sito internet del comune o sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente e consegnarli a mano al comune assieme al documento di identità del richiedente e del bambino o inviarli via mail all'indirizzo prot.atena.asmepec.it Tra le tante attività dedicate ai ragazzi sono previsti laboratori creativi, sportivi e didattici ma anche attività in lingua inglese, escursioni e animazioni e non mancheranno giochi, piscina e tanto altro. Insomma, 4 settimane all'insegna del divertimento con iniziative didattiche per i bambini e i ragazzi di Atena Lucana dai 3 ai 13 anni con la nuova edizione del campo estivo.